Soccorso in montagna ma quanto mi costi? Non passa un weekend che non vengano segnalati interventi nei sentieri delle Apuane o dell'Appennino non solo per situazioni gravi o gravissime ma anche per infortuni lievi, slogature, malesseri legati al caldo o alla spossatezza. Bene allora chiarire quanto costa una missione magari con l'intervento del soccorso alpino. Grazie al presidente regionale del SAST Stefano Rinaldelli abbiamo fatto i conti in tasca ai soccorsi. Innanzitutto i volontari che siano del soccorso alpino o del 118 non vengono pagati e svolgono la loro opera gratuitamente. Non così i tecnici dell'elisoccorso Pegaso che sono sotto contratto. Un volo dell'elicottero costa dai 60 ai 90 euro al minuto a seconda del modello. Ci sono poi da considerare i costi indiretti legati alle attrezzature e al carburante utilizzato per le missioni. Solo per fare un esempio la regione toscana trasferisce ogni anno al soccorso alpino 730 mila euro di fondi. Anche per questo forse è bene seguire delle semplici norme di buona condotta per le escursioni. Controllare le previsioni meteo, avere un equipaggiamento edoneo e un piccolo kit di pronto soccorso. Molte situazioni evidentemente onerose per le casse pubbliche potrebbero così essere evitate.